E' uno di quei rituali natalizi che non passa mai di moda. Anche quest'anno in ogni angolo della provincia si moltiplicano le tombole e non c'è sera in cui manchi la possibilità di divertirsi con estrazioni e con rincorse ai ricchi premi messi in paio in tante sale da gioco del territorio. Fra le più frequentate e appassionate c'è sicuramente quella dello sport park di Fano, dove la distribuzione dagli ambi e le tombole è cominciata già dal 26 novembre scorso ed allora si registra ogni sera grandissima affluenza. Opportunità di tombola che continuano fino a metà gennaio. Andiamo avanti tutti i giorni fino al 15 di gennaio e abbiamo un sacco di premi, anche qualche playstation siamo riusciti a trovare avendole prenotate con un larghissimo anticipo, iphone, abbiamo i salami, i prosciutti, elettrodomestici e che più ne ha, che più ne metta abbiamo un po' di tutto. Non c'è bisogno di nessuna prenotazione per venire a giocare qui da noi, potete venire direttamente qui, il posto ce n'è tanto, eventualmente c'è qualche minuto di attesa e nel frattempo comunque avete a disposizione bar, ristoranti, pizzeria, bullying, sala giochi, sala biliardi per passare il vostro tempo. Giochiamo tutti i giorni dalle ore 21 e i giorni festivi anche il pomeriggio dalle ore 16, mentre il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, siamo chiusi e la passeremo penso insomma con i nostri familiari, i nostri amici, tutti quanti. Buone feste a tutti, buon anno e buona supertombola a tutti quanti!